In brevissimo tempo un irresistibile ritornello è rimbalzato come un tan tan di discoteca in discoteca inevitabilmente il messaggio è stato raccolto anche dalla nostra classifica A lanciare l'urlo più ballato dell'estate un personaggio che la sua prima apparizione ha riscosso subito grande simpatia con Tarzan Boy, disco hit di oggi, Baltimora! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti